4 kg di Carl per bicipiti, li fai o li raddoppi e li dai alla prossima persona? Li raddoppio e li do alla prossima persona Se mi segui, passerai l'estate migliore della tua vita Non si vedono benissimo, sono 8 kg di Carl per bicipiti Li fai o li raddoppi e li dai alla prossima persona? Li raddoppio e li do alla prossima persona Mi fanno paura Sì 16 kg di Carl per bicipiti Li fai o li raddoppi e li dai alla prossima persona? Raddoppio, raddoppio Raddoppia 32 kg di Carl per i bicipiti Li fai o li raddoppi e dai alla prossima persona? Li faccio per non dare questo sforzo alla prossima persona Una persona misericordiosa 32 kg Forza Sì 32 kg di bicipiti per il nostro mostro finale Tu ci saresti riuscito?